Il rinnovato Consiglio della Camera di Commercio di Taranto ha rieletto alla prima votazione il Cavaliere Luigi Sprutelli, presidente dell'ente camerale. Il primo adempimento sarà quello di gestire la fase dell'incorporazione della Camera di Commercio di Brindisi come deciso dal Governo. È stata una splendida esperienza, finalmente ho visto un po' tutte le forze economiche e sociali di questo territorio compatte, compatte in quella che ha la volontà di esprimere unità di intenti in questo territorio dove è più facile litigare che non andare d'accordo. Da subito noi ci attiveremo per preparare una conferenza stampa in cui daremo una pianificazione delle nostre attività e le nostre linee politiche per questo periodo pre-fusione con Brindisi. Nella fusione quando ci sarà cambierà qualche cosa sicuramente perché invece di due consigli camerali, di due gionte e di due presidenti ci sarà una serie di organi. Chiaramente noi avremo la nostra rappresentanza, la sede rimarrà tale quale è adesso, non ci saranno danni per nessuno, ci saranno vantaggi per tutti quanti. E alla domanda se la sua rielezione può essere interpretata come il segnale di una Camera di Commercio più forte, il presidente Sportelli risponde così. Nesce sicuramente rafforzata perché comunque quelle che erano delle vecchie lesioni si sono superate in gran parte per cui sono confidente che finalmente riusciremo ad avere una squadra compatta che possa affrontare le tante problematiche di questo territorio e finalmente avviarle a soluzione.